Ha chiesto di intervenire il senatore Giovanardi, ricordo che ha già parlato il senatore Guagliarelli. Prego, Presidente. Guardi, Presidente, le farò perdere pochissimo tempo. Il tempo non è mai perso in questa aula. No, l'ha già perso lei che quando ha confusi i fascicoli, perché domani presenteremo alla Corte Comunizionale direttamente un conflitto di attribuzione, perché i colleghi sanno, il Paese deve sapere che questo 20081, cioè il disegno di legge che stiamo discutendo, in Commissione Giustizia non è stato esaminato neanche per un minuto.